Com'è bello milanista? Come siete belli milanisti? Io faccio un calcolo qua, faccio un calcolo a destra, faccio il calcolo a sinistra, ma se vinciamo con il Bologna, poi quello, ci mancano sette partite, poi sì. Aggiù, ma la posso dire la mia, ve la posso dire la mia, l'Inter, ieri, per come la penso io, ha vinto il scudetto, perché ci sta una banda di squadra come voi che non vince con il Bologna. Non vince col Bologna. Umila, si è dimostrata forte con le piccole, e debole con le piccole. Volete capire o no? Lo volete capire o no? O Bologna, ragazzi, Bologna, non riesce a battere il Bologna in casa, ma di che cosa stiate parlando? Questo video, l'altro non lo volevo neanche fare, è per quei buffoni milanisti che io faccio qua, io faccio là, è più sei, è più qua, è così, è colì. Fatti di calcoli, fatti di calcoli, fatti di calcoli, fatti di calcoli. Napoli a meno uno, e l'Inter potenzialmente a meno uno. E ora va a Torino, va! Ora va a Torino, va! Che ha la pressione che non hai vinto stasera, vai a giocare a Torino. Vai, che i Uri ci non dà regalare la partita. Vai a giocare a Torino, vai! Può vai a giocare a Sassu, può vai a giocare a Galazzo, poi vatti a giocare a partita, caro! Tu, Scudetto, l'hai perso. Sognati velo, Scudetto. Io l'ho detto io, l'Inter. Mi fa piacere se lo vince il Napoli, perché tra l'Inter e me, io preferisco una. Se l'Inter vince a Torino, psicologicamente, per me, hanno già vinto Scudetto. È una cosa normale, palese, perché ti ha messo pressione. L'Inter ti ha messo pressione. E si è visto. E si è visto che ti ha messo pressione. Non ne hai fuori classe in campo. Non ne hai fuori classe. Non ne hai. E questo lo dimostra. Quando stai là, là, che devi dare la risposta a sto camminato, perché tu, milanista, o Milan, dovevi stare a più venti sto camminato. E non te lo devo dire io. Ho pareggio con l'Udinese. Vabbè, non pareggio errori arbitrali, giustamente. Ah, sconfitta con spezza. Non te lo devo dire io. Non è la prima volta che ti trovi in questa situazione. E fallisci puntualmente. E allora, frate mio, ma uno come fa a ti fare per voi? Come fa? Tu stai buttando una Scudetto in dove c'è essa. Più tre, più quattro, più sei. Zero punti. E fratello, dateglielo all'Inter. Fate prima. Oppa, fine. 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 Io, complimenti al Bologna. Vorrei undici medielli in campo. Giocatore, non lo so, sta dappertutto. Bella, vai io. Milanista, fatti due calcoli. Pidà, calcolatrice. Fattenemo i due calcoli. Va a Torino. Ciao, ciao.